filmato in arrivo? allora zoom lo provo proprio che mentre arriva è sul stradone principale che arriva qua, no? se scomparirà e poi arriva lì e poi arriva lì e lui dai se cazzo eeeh eeeh e lui ha fatto una scuola 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 la faccio meglio mi atti in piedi la faccio meglio è lui, è lui! no, è lui! come non è lui! Gigi l'amore, Gigi l'amore, Gigi l'amore, come dei cannoni. Gigi l'amore, Gigi l'amore, Gigi l'amore, Gigi l'amore! Vieni, qui, Fabio, K, ci vediamo in tenda